se anche tu hai la barba questo è il video per te per lavare la mia barba mi aiuto con questa fantastica spazzola in silicone dopodiché applico direttamente sulla barba bagnata l'olio da barba questo passaggio è fondamentale perché mi aiuta a tenere la barba protetta dallo stress e dal calore del phon dato che con l'asciugatura con spazzola e phon non riesco ad ottenere lo styling desiderato soprattutto nella zona dei laterali ecco che vado ad utilizzare questa fantastica spazzola elettrica la cosa comodissima è che ha tre livelli differenti di temperatura ed appena si infila la spina è praticamente quasi pronta all'uso ti faccio vedere il prima e il dopo ripeto lo stesso procedimento anche dall'altro lato logicamente e come ultimo passaggio finale vado ad applicare questo balsamo cerato che mi permette di mantenere e fissare lo styling già dato in precedenza questo è il risultato finale fammi sapere cosa ne pensi nei commenti